Una vita anticipazioni spagnole, Olga ama Diego e gli salva la vita. Anticipazioni della sopuna vita, riguardanti le puntate che vedremo in onda già la prossima settimana, mostrano una Olga innamorata e preoccupata per Diego. La ragazza si è avvicinata all'Alda e assecondando una richiesta della diabolica madre, Ursula, che pronta a liberarsi dell'amante di Blanca, ha affidato alla folle Olga il compito di farlo fuori. La vicenda senior mira a sottrarre a Blanca il controllo sull'erede che porta in grembo ed è cosciente che Samuele è più facilmente manipolabile rispetto al fratello maggiore. Diego designa Olga garante delle sue ultime volontà. Ursula ha comandato a Olga di avvelenare l'Aldai, ma la giovane non ha trovato il coraggio. La scoperta della grave malattia che affligge il pomerino ha dato un vantaggio alla ragazza, che ha potuto evitare di eseguire il difficile ordine della madre dicendole dell'inevitabile destino di Diego. Il figlio di Jaime infatti, informato del grave avvelenamento da Mercurio che infetta il suo sangue, ha rifiutato di cura si è convinto che la sua fine porterà finalmente serenità a Blanca e Samuele. L'Aldai ha inoltre deciso di far firmare ad Olga, un documento che la designa come garante della sua volontà di morire dignitosamente. Olga dà il consenso per una cura che può salvare la vita a Diego. Ma quando il dottor Quil proporrà alla giovane una cura probabilmente capace di salvare la vita dell'amato, Olga non esiterà a dare il suo consenso. Diego verrà quindi sottoposto ad un particolare lavaggio del sangue anche con l'affoggio del fratello Samuel che, pronto a mettere da parte i vecchi rancori, si metterà a disposizione per le trasfusioni necessarie a salvare il giovane. Il piano di Ursula andrà dunque completamente in fumo, Olga disubbidirà. Ma del resto la ragazza ha solo finto di voler collaborare con la più bella madre, il suo scopo è sempre stato distruggere Blanca. La giovane è consapevole che facendo del male all'eletta riuscirà a colpire anche Ursula. Essere riuscita a strappare alla sorella il suo unico viro amore e aver conquistato la fiducia dell'uomo, è già un passo importante nel suo macchiavellico progetto di vendita.